musica 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 oggi siamo qui a questa bellissima giornata questo giorno è un doppio compleanno loro alla Andrea e andiamo ma andiamo a conoscerli meglio vai tu sei? Andrea, 36 anni, celibe, illibato! E al suo fianco abbiamo? Alla, 35, fotomodello! Bene, tutti gli amici, al 3, il nome alla rinfusa, 1, 2, 3, San Ciascuno! Ci piace, l'abbiamo capito! E allora fateci sentire come ve la cavate! E allora fateci, l'abbiamo capito! E allora fateci, l'abbiamo capito! E allora fateci! Non sei arrivato a fuori, non so chi l'ha deciso, l'ha preso sempre più. Ma il quotidiano è la guerra, la razionalità, fa la vera e tutti osserva, e fa riuscire. Dove vai, ma il quale saprai, se non mi pare che non è, non ti crederà aspettare, non ti crederà aspettare. E se non mi vai, ma il quale saprai, non mi pare che non è, non ti crederà aspettare, E non mi pare che non è, non ti crederà aspettare, non ti crederà aspettare. Se sapessero che sono proprio io, che non sarei che credevano che fosse quasi un teo, ma non mi fermavo mai nessuna storia in cui vi decidesi d'amore in attenzione, Un spazio di Cristo è l'incondizio, è arrivata lui, non so chi l'ha deciso, la vedo sempre più, la vuol dire la terra, la razionalità, ma va bene che se va, se parli uscire, Tu sei mai, tu a ti sarai, non è pavistare qui, tu a ti te alberta a te, a raspettare qui. E se tu a ti sarai, non è pavistare qui, se tu a te, tu a te, tu a te, tu a te, tu a te. E se tu a te, tu a te, tu a te. E se tu a te, 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 tu a te. Grazie a tutti.